Allora... Piano a buio, cazzo... E se vede il terzo piano che faccio? Oh, porca puttana! Perché è bloccato? Vedete un attimo, se vado al terzo piano che succede? Oh! Eccolo, va! No! Oh, mortacci tua! Alzati in piedi! Oh, cazzo! Anche perché non c'è bisogno per farsi colpirlo in testa! Questo è andato! Chiave? Che chiave è questa? Un attimo che la vedo! Andate che vedo un attimo che cazzo chiave è! Esamina! Chiave e stanza armadietti! Oh! E questo è andato! Ma... Ma scusa un attimo! Ma qua manca una porta! Manca una porta qui! Ma che è? No, è impossibile che è K... Oh sì! Buh! Questo era... Buh! E buh! Medica! Ah! Magari c'è da qualche parte! Locke room è quella sotto! Cos'è compreso? Ah! La stanza degli armadietti! Cioè... Quella era... Strana! Oh! Lui ha ottenuto! Mi ha acciso qua! Mi sono acchiappato un colpo! Lo sono trovato davanti! Ho finito i colpi! Apri 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 apri! Sta cazzo di porta! Carica sta cazzo di arma! Mi ha fatto piano un colpo! Sto stronzo! Ma mi risente il rumore! Ma che è? Ma non ti... Ti senti addirittura oltre il rumore! Stronzo! Ci sta un altro! Tu che pan colpo! Prima non c'era! Ma non ho bisogno! E' sbucato dal nulla! Fa vedere la cosa! Porca troia! Ma che colpo che mi sono preso! Ma davvero! Che colpo! Ma aspettavo che c'era quello! Pensavo fosse al secondo piano! E ho detto... Vado al secondo piano! Non è riuscito qua! Oh! Li mottacci! I doppi! Stronzo del cazzo! L'altra volta! I colpi! Madonna! Ah vai affanculo! Ho un colpo! Te è sciolto! Ah DCM! Quello lì è DCM! Dicium! Qua cos'è che ho? Qua cos'è che ho? Allora cento... Allora il 2 e il 3 non c'è! Quindi centoquattro! Centosei! E cento nove! Cento quattro! Cento nove! Eh! Su! Madonna! Cento quattro! Centosei! Cento nove! Tu che ha pa' un colpo! Mottacci tua! Si! E di qua invece lo posso fare! Perché non ho il 2! Non ho il 3! Non ho... Ma non c'è niente dentro! A quanto ho capito! Ok! Tu che ha pa' un cazzo di gol! Batteria! Ottimo! Ok! Non ha senso quella cosa di gol! In particolare non ha senso che io gli spado i mitra e non gli faccio un cazzo di danno! Oh! Ma dove cazzo è caduto questo? Oh! Ma non è male che cadono dall'alto! Ho sparato i golpi per un cazzo! Oh! Oh! Ma li salvo! Perché madonna! Ma se ho acchiappato un colpo appena ho visto il leaker che usciva! Ma che è? C'è? C'è… ma quello dove cazzo è caduto ah era questo che stava qui ma se gli ho sparato e non si alzava vabbè allora d c m cos'è? oh bene che i rumori ci sono aspetta un attimo se stai leggendo questa nota vuol dire che ho fatto una brutta fine se dovessi sentire il rumore per venire dalla mia dietro ti prego non aprirlo metti fuori e mentre ti fai divertuto io cerco di capire come mi vedo dall'altra parte? credo che l'unico modo sia distruggere il muro usando l'esplosivo ho anche trovato ah ecco perché non c'è la porta lì perché io devo far scoppiare il muro mi pare di poter avere portato una nella stanza di una dietro la chiave della stanza let's go west ah c'è un muro è vero eh lasciamo perdere come lasciamo perdere? perché? ah qui è capa ah perché c'è quello lì dentro l'arma dietro è vero guarda sto dentro qua ma fatevi un cazzo pensavo di aver preso con la tosse invece no eh ma ah ok ce l'ho l'esplosivo bravo ho scattato io nella doccia quindi si è spaccato anche sopra oh ah no porca troia oh ma che è qua ah ha fatto alla cosa ecco perché c'è la caldaia qua che è rotta ehi dos oh di vattaggi ehi la madonna quanti cazzo ce ne sono no niente devo far così mi spiace carica il colpo oh e tu? ah mica ma gli ho sparato ho capito qualcosa con tutti quei polisotti morti quando arrivi nella stanza vedi i colpi sto finendo con calma metteteli in fila ancora questo cinese di meta sto finito i colpi qua mo non più patta fatti ma gli spari in testa parca troia con tutti i colpi che gli spari in testa come minimo dovresti averla ammazzata invece no invece no ok quanti colpi ho ho spiegato un botto di colpi qua parca troia ho buttato la granata da caso questi qua non sono morti cioè ma guarda me ne sbatto il cazzo piuttosto non ci vado dai questa mentira oh cazzo eccolo oh è questo dove cazzo è uscito ma questi escono dai muri ma che è porca troia ma è uscito dal muro come ho fatto che è pancolpo ma perché troia prima non c'era senti i colpi morto si ma è stato che è pancolpo quella troia del merda ma prima non c'era ma che è si sollevano su da soli ok è entrata qua è entrata qua il ferocio del cazzo qui vede tutta la stanza cammina qui c'è una porta si c'è una porta ma ah no aspetta questo è strano che mi dice che è rosso oh aspetta ora è blu a post cioè blu è libera mi sono rifanita pure si c'è più la munizione c'è più un cazzo dottor bard oh grazie a dio hai idea di quanto abbia provato a contattare qualcuno tranquillo la tireremo fuori mi dica dove si trova sono entrambolato in un potuto ospedale circondato da mostri di ogni genere senti manda qui gli stars e loro sapranno cosa fare no negativo l'arpid è stato invaso allora inventati qualcosa all'ombrella sono infazziti ci vogliono tutti morti io sono il solo a sapere come creare un vaccino per mettere fine a tutto questo quindi o te ne stai lì con il cazzo in mano o mi mandi qualcuno in grado di tirarmi fuori di qui già lo adoro non ne dubito lo hai sentito non possiamo consegnarlo alla compagnia è michael il capo non siamo noi provo a trovare la posizione del dottore con il computer è michael il capo allora è michael che fa un po' vi farà fuori tutti e ci rifi vorrà un po' da un'occhiata in giro vedi se trovi qualcosa di utile allora medikit spero che loro non hanno nessun boss da affrontare perché sennò c'è allora questo cos'è guarda sto ardente che è qua munizioni servono sempre ben accettate mi dico della stanza d'ossa c'è qualcos'altro ah no qua c'è cassatello e jet oh questo serve ottimo eh stanza giusta ma normale ovviamente allora che è qua è giri quella in prima fila ma scusate è giri quella in prima fila mi fa conferma e basta l'apporto sull'icidente alla villa 5 minuti della stanza Jill Barry Chris Wesker c'era e ah e Rebecca 5 Wesker oddio Wesker della stanza neanche perché altro possiamo mettere Brad forse è Wesker che è sopravvissuto anche lui quindi sicuramente se io esco da lì c'è qualcuno che mi è sciatta e sicuramente non posso salvare allora posiamo un attimo qualcosa poso uno di questi la testa la posso buttare non mi serve più magari mentre esco c'è qualcosa oh guarda sei bloccata è bloccata ufficio degli stars 29 settembre alle 4.43 si ma volevo un po' interrompere per ma vedo se riesco a salvare un giro in centrale ma proprio un giro ma contato questa location non me la ricordo ma che c***o è questa roba qua? sono l'unica sopravvissuta eh sei a salute normale ma ti tocchi non ho schiacciato niente è andata da sola lì guarda riesco a trovare un salvataggio oh così posso salvare andiamo un po' se qualcuno se c'è qualcuno Carlos rispondi Carlos merda non c'è segnale allora ok mire di prossimità alle nuove armi con i vostri pistolini da signorina è entrato fuori dal cilindro qualcosa che ti fa schizzare a meno livelli di testosterone mia non c'è Ah, di grosse dimensioni, allora ho raccolto tutto, no c'è qualcos'altro, altre mine, basta, ok salviamo, anzi vediamo di mettere dietro qualcosa, si ma ok, 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 pianta rossa ce l'ho già, la valle della spada c'è e basta c'è solo quello, ok posso,